Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo in vacanza, tornati da poco dalla Sardegna, questa volta hanno deciso di recarsi in Spagna. Ibiza e Formentera. Il primo filmato. Il filmato che giocosamente colpisce la compagna sul lato B, il TUTTO condito da un'espressione compiaciuta. Nel secondo, invece, l'influencer è sdraiata su una piattaforma e lotta con il fidanzato per non essere gettata in mare. Quello che è stato notato però è il costume aperizoma della neo-mamma che, a pochi mesi dal parto, si mostra già con un fisico impeccabile, e un lato B da far invidia. Chiara Ferragni, 31 anni, oltre che essere un'influencer, un'imprenditrice e una mamma è soprattutto una giovane donna che si gode l'estate in vista delle nozze, e lo dimostra orgogliosamente. . Poto e videocredits Instagram . 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